La pioggia caduta nella notte ha creato disagi diffusi in tutta la provincia. Si contano a decine di scantinati le strade di garage allagati dall'acqua. Uno scenario non nuovo per il Pistoiese, ma più tipico dei mesi autunnali ed invernali, piuttosto che di luglio. Secondo le rilevazioni fatte nella zona del Montalbano, sono caduti circa 80 mm d'acqua che hanno mandato in tilt le fognature e la rete minore del reticolo idraulico. Sotto accusa, da parte che si è trovato ancora una volta allagato, è la manutenzione dei fossi. Sono pieni di sudici, bottiglie, di tutto di più. Non viene tagliata l'erba. Dove viene tagliata viene lasciata dentro la fossa. Di conseguenza la fossa non è più profonda, non porta più acqua. Poi qua ci sta una fossa grande che porta parecchia acqua. In fondo, dopo i palazzi, c'è un restringimento a regola. Le fogne non ricevono più e l'acqua poi giustamente va dove è più bassa. Dove è più bassa, torna indietro. Infatti qua dietro ci sono tutti i campi allagati. E lì, in pratica, fino a che non va via quella lì, noi si resta sotto l'acqua. Ma questo succede due o tre volte l'anno? Mi piove un pochino di mezz'ora e più. Noi quando piove forte siamo sotto l'acqua. Ecco, mi diceva prima che è successo sia a gennaio che poi a febbraio. Gennaio, febbraio, ottobre del 2013, marzo del 2013. Ogni pochino noi è questa situazione. A gennaio abbiamo avuto anche un metro d'acqua. Ma questo secondo lei da cosa dipende? Ma io non lo so, qui le fosse non ricevano. Io non lo so, non me ne intendo. So solo che ogni pochino noi bisogna stare attenti con le macchine a spostarle da garage, a levare tutta la roba da garage perché non si vive più qui. Il bilancio, con le previsioni che parlano di un miglioramento del tempo, è di allagamenti a Larciano, Monsummano, Pievanievole, Serravalle, Quarrata, Pistoia e Dagliana. Da poco dopo la mezzanotte e mezza di martedì sono state tantissime le chiamate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare situazioni critiche. Poco dopo le 6.30 del mattino Lombrone ha raggiunto il primo livello di guardia con l'allarme per lo stato del corso d'acqua che è rientrato intorno alle 9. A Cantagrillo una coppia di anziani è stata fatta evacuare dalla propria casa, invasa dall'acqua. Squadra dei comuni e delle associazioni di volontariato, spiega la provincia di Pistoia facendo il punto sulla situazione, hanno lavorato per svuotare scantinati e parcheggi e per ripristinare la viabilità interrotta. Sulle strade di competenza provinciale si sono verificati smottamenti con caduta di detriti sulla provinciale Cantagrillo Vergine dei Pini, sulla 43 Pozzanello Bicimurri e sulla provinciale 28 Cantagrillo Bicimurri.